Catturo un po' la vostra attenzione, immagino siate abbastanza stanchi anche perché i temi toccati finora sono stati tutti impegnativi. Io sono la mosca bianca perché, diciamo, arrivo dal meridione d'Italia, sono un'imprenditore o imprenditrice donna, legatissima al mio territorio, anche se prima di essere legata al mio territorio mi sento una cittadina italiana e questo è molto importante. Quindi il mio contributo oggi è perché io vedo l'Italia unica e in questo momento così difficile richiede lo sforzo unico di tutti coloro che si sentono cittadini italiani, in qualsiasi ambito operino. Ringrazio Matteo Salvini, ringrazio Raffaele Volpi, ringrazio il mio caro amico napoletano Gianluca Cantalamessa che ha voluto che io portassi qui una testimonianza, una testimonianza di concretezza. Mi caratterizzo, vengo da famiglie molto numerose, la mia famiglia materna e i miei nonni hanno messo al mondo 11 figli uno in ogni città d'Italia e i miei nonni paterni sei figli, tutti nel meridione d'Italia. Due piccoli clan, si parlava all'inizio della famiglia italiana, la famiglia italiana è una grande forza è quella dalla quale noi traiamo valori, educazione, identità e radici e quindi a mio avviso è assolutamente un bene da tutelare con la grande attenzione di chi ci governa. Sono un'imprenditrice per vocazione, per passione, ce l'ho nel sangue, vengo da una famiglia imprenditoriale siamo un gruppo meridionale ma diversificato in tanti ambiti, settore delle infrastrutture ferroviarie settore dell'edilizia pubblica e privata, settore del turismo alberghiero, settore delle energie rinnovabili settore dei beni culturali, ma operiamo su tutto il territorio nazionale e cosa noi vogliamo? Mi attraeva molto, complimenti per l'immagine grafica perché ha un caddy green, però è anche quell'omino che sembra una lampadina con un cappellino, con un caschetto da cantiere in testa quindi immagino che da questo incontro di oggi nascano delle proposizioni costruttive il cantiere è un luogo nel quale avanza una commessa, si costruisce valore e quindi è un'immagine di un luogo in movimento sicuramente sono venuta a dare un contributo perché mi auguro che la vocazione territoriale del meridione venga raccolta in maniera impegnativa da un soggetto che sia un soggetto politico io non sono per il populismo, non sono per il movimentismo che viene dalla pancia e non si capisce dove va io penso che gli imprenditori hanno bisogno di certezze, hanno bisogno di fiducia e questa è una parola importantissima alla quale andrebbe dedicato un momento di grande attenzione la fiducia è una parola fondamentale e l'imprenditore ha anche bisogno di referenti che sentano la politica come luogo di tutela del bene comune quando dico tutela del bene comune è il bene delle comunità e questa è una radice profonda che va salvaguardata parliamo del meridione, qual è diciamo la mia idea di meridione quello che io vorrei e chiaramente scaturisce dalla mia idea soggettiva ma anche diciamo da confronti continui che ho avuto in tanti ambiti l'ambito confindustriale che mi ha appartenuto per vari ruoli che ho ricoperto all'interno del sistema e deriva anche da una mia idea di sociale molto forte io sono consigliere generale della fondazione Banco di Napoli quindi mi interesso di quelli che sono argomenti trasversali a più regioni del meridione riguardano la ricerca, l'istruzione e anche il disagio sociale che meridione vorrei? vorrei un meridione capace di riscoprire le sue vere vocazioni identitarie quindi anche localistiche ma a livello poi con la capacità di competere a livello globale quali sono queste vocazioni? sono evidenti, sono sotto gli occhi di tutti sono la risorsa mare, sono il sole, il mare, appunto il mare quindi la vocazione turistica, la vocazione agroalimentare con tutta la caratteristica dei nostri prodotti DOP e IGP forse non tutti sanno che l'Italia è il primo paese in Europa per numero di prodotti DOP e IGP e non tutti sanno che il 75% di questi prodotti è nel meridione d'Italia e forse non tutti sanno che queste produzioni andrebbero tutelate e non tutti sanno che all'estero le parole DOP e IGP sono assolutamente sconosciute quindi io chiedo alla politica, quella con la P maiuscola alla quale oggi mi rivolgo perché mi è stato garantito che sarebbe stata qui ad ascoltare di tutelare queste produzioni che sono riconosciute eccellenze nel mondo intero nel nostro gruppo c'è una piccola società neonata, una start-up, si chiama Militaly si interessa di prodotti DOP e IGP della Campania ora arriva anche la Puglia perché le sedi legali delle nostre società sono a Lecce mi rivolgo all'onorevole Fitto qual è la sfida? la sfida è portare la competenza imprenditoriale la cultura internazionale a disposizione di veicoli societari che siano in grado poi di promuovere in maniera globale queste produzioni di eccellenza nel mondo questo però senza il sistema paese non può accadere non può essere lasciato alla piccola o alla media dimensione un'azione di tutela e di marketing internazionale sulle spalle di chi? di chi ha bisogno invece di ricevere formazione e aggiornamento di cultura imprenditoriale parliamo invece anche della vocazione turistica ecco la vocazione turistica ha varie direttrici sempre parliamo del meridione noi ospitiamo un turismo religioso perché abbiamo dei centri di fede importanti nel meridione d'Italia una per tutte Pompei abbiamo un turismo leisure quindi di persone che da tutto il mondo inclusi anche tanti italiani scendono nel meridione per il mare soprattutto e abbiamo anche diciamo un turismo particolarmente interessato ai nostri beni culturali ai nostri beni architettonici hanno caratteristiche e target diversi dovremmo avere la capacità di attrarli in maniera stanziale stiamo avendo una grande fortuna come paese in questo momento fortuna e sfortuna per altri devo dire tutto quello che è il Nord Africa in questo momento per il turismo è off limits e quindi tantissimi arrivano in Italia e molto nel meridione proprio perché non vanno più verso destinazioni quali la Tunisia, l'Egitto insomma tutto quello che era un po' un leisure di basso costo sta arrivando ora nel mezzogiorno d'Italia ecco se avessimo un'azione di sistema organica per rendere questi flussi perduranti nel tempo sarebbe sicuramente una grande opportunità in questo devo dire la verità la Puglia di Raffaele Fitto governatore ha dato il là e la Puglia è una regione che conserva un flusso in incoming addirittura in alcuni anni a doppia cifra nonostante la crisi economica la Campania negli ultimi anni anche ha fatto diciamo un notevole passo parliamo della logistica la logistica chiaramente è legata ad alcune efficienze oggi carenti nel mezzogiorno dal punto di vista infrastrutturale è inutile che diciamo venire vicino le due diciamo una ancora non nata ed è l'alta velocità della Napoli-Bari l'altra diciamo la grande incompiuta ed è l'autostrada del Sole ecco solo per dirne due poi non voglio aggiungere diciamo ponte di Messina e quant'altro cose che forse non le vedremo mai chissà forse i nipoti i figli dei nipoti non lo so di fatto diciamo anche nella mia area a Napoli aspettiamo da 30-40 anni alcuni interventi di riqualificazione del territorio regionale che diciamo ogni volta sembra che stiano per partire poi dopo invece si arenano e quindi io sono arrivata all'età di 50 anni a 30 anni ero convinta che dopo 10 anni li avrei visti realizzati e invece sono a 50 ancora niente fra poco divento pure nonna spero che i miei nipoti possano diciamo vedere queste realizzazioni parliamo della risorsa mare oggi si parla di mare mediterraneo unicamente per tutto quello che sono le problematiche legate ai flussi migratori in arrivo sulle nostre coste non si parla più della risorsa mare come elemento fondamentale di sviluppo che caratterizza i territori non solo meridionali noi siamo una penisola questo discorso andrebbe fortemente ripreso è stato abbandonato abbiamo i porti diciamo del nostro meridione d'Italia che non riescono a trovare ordine quindi le governance delle autorità portuali sono un fatto drammatico e chiaramente questo ci fa perdere competitività nei traffici abbiamo tutto quello che è il sistema diciamo di trasporto delle merci che oramai sta collassando il porto di Napoli una per tutte e siamo in concorrenza con porte addirittura del nord Europa che fanno molto diciamo più traffico di noi però non abbiamo questa buona abitudine di guardare alle best practice di altri paesi noi vogliamo sempre scoprire io dico scoprire l'acqua calda non abbiamo il metodo non abbiamo la capacità di andare a vedere quello che di buono hanno fatto gli altri e senza inventarci niente replicarlo cercando ovviamente di adattarlo a quelle che sono le nostre specificità quindi ho detto food ho detto logistica ho detto risorsa mare ho detto turismo declinato su varie linee e ho detto mancanza di infrastrutture che sono fondamentali per rendere il sistema delle imprese competitive e voglio fare un ultimo passaggio sulla legalità la legalità è un tema delicato soprattutto se è trattato da un'imprenditrice meridionale e io dico che è la madre di tutte le necessità è la madre di tutte le necessità perché noi viviamo in un territorio estremamente compromesso dove la collusione il malaffare diciamo spesso la fanno da padrone e l'hanno fatto anche con la politica devo dire quello che chiediamo noi comuni cittadini che tutti i giorni ci sbracciamo e ci impegniamo è il presidio del territorio questa è una cosa fondamentale voi leggete tutti quanti i giornali leggete tutti quanti delle faide che attraversano soprattutto il capoluogo della campania leggete tutti delle baby gang che sparano all'impazzata a qualsiasi ora del giorno e della serie dove colgo colgo questa è una cosa in un paese civile presidiato inaccettabile non è accettabile quindi è un'istanza forte assolutamente un ultimo passaggio per chiudere noi abbiamo due tipi di imprese semplifico molto imprese che lavorano per il mercato sia domestico che internazionale e abbiamo imprese che invece tante imprese italiane operano nel settore diciamo delle opere pubbliche voglio un attimo dire quali sono le esigenze in questo momento lavorare per i mercati internazionali non è semplice io ho avuto queste esperienze fino a quel che hanno fa ho avuto fino a due anni fa degli importanti soci imprenditori finlandesi vi assicuro le differenze sono tante sono differenze strutturali strutturali hanno una mentalità in orde europei molto molto rigida non è semplice confrontarsi però mi ha colpito una volta diciamo una loro battuta dice Rossella ma tu che lavori anche nel settore delle opere pubbliche ma è vero che tu devi avere tanti soldi per lavori fatti e non pagati e io dicevo sì certo è vero ce l'ho nei miei bilanci ma Rossella se ce l'hai da dieci anni scritti nel bilanci forse non le prenderai più forse non le dovevi proprio avere ecco allora tanti governi si sono interessati dei crediti delle imprese verso la pubblica amministrazione è scesa una linea d'ombra questo tema non si tocca più vi assicuro non lo so quanto poco è stato pagato in questi anni ma c'è ancora tantissimo che lo Stato deve agli imprenditori questo è un tema serio perché l'ha detto il professore prima di me su quei crediti abbiamo pagato le imposte abbiamo anticipato l'IVA abbiamo pagato contributi e chi ha potuto ha pagato fornitori tanti non ce l'hanno fatta e non sono sopravvissuti tanti non hanno potuto pagare e non hanno più neanche potuto pagare a partecipare a gare successive questa è una cosa indecente illegittima ora in questo momento si discute di nuovo codice degli appalti avevano detto che era una semplificazione peccato che sembra stiano per adottare 50 regolamenti attuativi 50 peccato che stiano pensando che va bene non va più bene la gara a massimo ribasso ci vogliono le gare diciamo con progetti economicamente sostenibili peccato che però vogliono che le imprese si presentino con progetti esecutivi un progetto esecutivo costa il 3% del valore di un'opera se voglio partecipare a una gara di 5 milioni devo spendere 150 mila euro di progetto senza sapere se poi potrò realizzare effettivamente quell'opera oppure no allora forse lo Stato ci sta dicendo che opere pubbliche in Italia non se ne devono più fare lo dica chiaramente ecco parliamo della competizione internazionale tutti si riempiono la bocca di internazionalizzazione non è semplice per le imprese internazionalizzarsi occorre una cultura imprenditoriale adeguata occorrono competenze serie e importanti non solo dell'imprenditore ma degli organici che collaborano con l'imprenditore occorre conoscere bene le lingue straniere occorre conoscere la finanza internazionale occorre conoscere le leggi del paese nel quale si entra e occorre avere strutture finanziarie solide perché il rischio che si affronta è un rischio importante cosa dico dico che una volta le grandi imprese del sistema Italia hanno avuto una funzione seria quella di traghettare in altri paesi imprese di piccole e medie dimensioni per consentire sotto un ombrello più grande di fare un'esperienza adeguata oltre 20 anni fa le grandi imprese hanno rinunciato a questo ruolo e non c'è governo che abbia avuto la capacità di insegnare ai piccoli e medi imprenditori e di sostenerli con delle azioni di sistema come si internazionalizza un'impresa internazionalizzare un'impresa è un percorso formativo di cultura imprenditoriale di cultura organizzativa di cultura finanziaria questi sono i temi seri altrimenti ci riempiamo la bocca di cose che mettono ad altissimo di esperienze che mettono ad altissimo rischio io dico le poche imprese sopravvissute chiudo si parla poco degli imprenditori l'Italia è un paese molto anti imprenditoriale sono state dette tutte le criticità l'iper burocratizzazione l'altissimo impatto fiscale uno stato che vuole essere il tuo socio occulto senza partecipare ai rischi della tua impresa territori dove l'illegalità e la criminalità spesso la fanno da padrona la non certezza delle norme perché noi abbiamo uno stato che ad investimenti incentivati si permette norme retroattive sono cose di una gravità assoluta la non certezza del diritto la non certezza dei tempi del diritto sono tutti argomenti che nelle relazioni che mi hanno preceduta sono state in qualche modo sottoposti alla vostra attenzione ecco allora io credo che su tutto questo c'è la fiducia se la politica la politica con la P maiuscola vuole riconquistare una credibilità verso la classe produttiva di questo paese che siano collaboratori o imprenditori perché per me imprenditori e collaboratori sono un unicum l'azienda io la chiamo l'organismo vivente respira si connette con tutti quelli con i quali entra in relazione ecco se la politica non è capace di riconquistare questa fiducia il futuro che ci attende non è proprio rosa e ricordate che chi crea valore in questo paese sono gli imprenditori grazie